La prima question time risponde l'assessore Agabiti. Intendimenti della Giunta regionale per l'aggiornamento della programmazione europea 2014-2020 e 2021-2027 e altre misure finalizzate alla ripartenza economica e sociale regionale dopo l'emergenza sanitaria Covid-19. Do la parola al Consigliere Bianconi. Buongiorno, ringrazio il Presidente. Il motivo di questa mia interrogazione nel suo oggetto e nei tempi difficili che stiamo vivendo è una domanda per la quale ho cercato di trovare risposte nelle ultime settimane senza successo. Credo veramente difficile poter valutare l'operato della Giunta e della maggioranza e anche poter, nel ruolo di consigliere di minoranza, articolare delle proposte senza avere un quadro economico chiaro di quelle che sono ad oggi le risorse disponibili all'interno di questa regione. Mi spiego meglio. L'Unione Europea ci ha dato la possibilità di intervenire rimodulando l'impiego dei fondi strutturali non ancora utilizzati. Ci dà la possibilità quindi anche di non cofinanziare questo tipo di intervento che prima avevamo comunque dovuto appostare in bilancio nel bilancio 2020. Per quello che è nella possibilità, forse qualche voce anche del nostro bilancio 2020 potrebbe essere rimodulata in funzione di cosa? In funzione di uno scenario diverso. Abbiamo problemi dal punto di vista sociale ed economico importanti. Quello che mi piacerebbe sapere è quant'è il monte risorse totale che questa Giunta, questa maggioranza, intende rimodulare mettere a disposizione di una strategia per contrastare l'emergenza e agganciandola a una nuova programmazione 2021-2027 costruire una strategia di breve, medio e lungo periodo che abbia un senso per il bene dell'Umbria. Questo credo sia l'elemento principale al quale rivolgersi per fare chiarezza. Gli Umbria hanno bisogno di chiarezza, gli Umbria hanno bisogno di capire quante sono le risorse dell'Umbria disponibili per arginare questa crisi. Poi quelle che arriveranno dal Governo, quelle che saranno aggiuntive, saranno altre risorse. Ma noi dobbiamo iniziare a pensare dentro casa nostra con cosa possiamo utilizzare. E non possiamo misurare la qualità delle iniziative messe oggi in campo se non abbiamo una visione generale delle risorse disponibili. Perché non possiamo dire che è una misura, è la migliore misura, se non sappiamo a quale quadro di riferimento finanziario essa si riserva. Quindi mi piacerebbe, e sarebbe questo stato un grande atto politico, quello di decidere dove tagliare e dove investire, esattamente in quale comparti, come rimodulare gli investimenti dei fondi strutturali e di tutte le altre misure disponibili dal punto di vista sociale e familiare, dal punto di vista del capitolo dell'economia e del lavoro, dal punto di vista della salute e della sanità, della formazione e dell'innovazione. Questo macro quadro di riferimento poi è quello che darebbe a noi, minoranza, la possibilità di proporre iniziative misurate all'interno di un quadro finanziario possibile e di valutare anche le vostre iniziative all'interno delle risorse possibili, oltre a una valutazione su come dividere queste risorse generali. Questo è quello che vi chiedo. Credo che sia una richiesta legittima dopo il tempo passato dall'inizio di questa crisi e mi auguro oggi di avere delle risposte puntuali per permettere a me e credo a tutta la nostra comunità, dentro questa Assemblea legislativa e fuori da questa Assemblea legislativa, di poter contribuire con il senso pratico. La parola all'assessora Gabiti. Grazie Presidente. Gli effetti diretti e indiretti dell'epidemia di Covid-19 richiedono una verifica ed un monitoraggio costante e continuo delle ripercussioni sul tessuto sociale e produttivo, ma anche sull'efficacia dell'azione pubblica. La situazione attuale è senza precedenti, come ben sapete tutti, con un impatto economico molto pesante, sia sul versante della domanda di beni e servizi, quindi riduzione del reddito disponibile, impossibilità di fare acquisti, modifica delle relazioni sociali e delle modalità di consumo, che sull'offerta dei medesimi, più sulle prolungate di molte attività economiche, riduzione del fatturato causato dalle riduzioni della domanda, e richiede quindi misure eccezionali e adeguate alla situazione da applicare in tali circostanze. La Regione si è attivata immediatamente, pur nel quadro delle incertezze derivanti, tra l'altro, dall'accavallarsi di norme e provvedimenti nazionali non sempre definiti in modo organico. La strategia regionale, anche nell'ottica dell'evolversi dell'emergenza e nella disponibilità delle risorse ricavabili dalla strumentazione regionale, quindi fondi propri, risorse della programmazione europea, altri fondi della politica di sviluppo e coesione, si è così articolata. Da un lato, sugli interventi immediatamente attivabili, e che sono già stati avviati, con riferimento a quelli di natura amministrativa, la semplificazione dei provvedimenti di concessione, la sospensione, la proroga di termini e di scadenze, quelli di carattere finanziario, ovvero attivabili senza modifiche dei quadri giuridici e di programmazione attuale. Dall'altro, sugli interventi attivabili a medio termine, sia attraverso la revisione dell'attuale programmazione europea, a supporto del contrasto dell'emergenza, sia attraverso il reperimento di ulteriori eventuali spazi di bilancio regionale da valutare in assestamento. Per quanto riguarda il sostegno al tessuto produttivo, ci sono degli interventi già attuati. Abbiamo adottato una serie di provvedimenti. Abbiamo posto in essere interventi per garantire la massima flessibilità operativa da parte dei servizi regionali, delle agenzie regionali e degli enti strumentali, nonché delle società partecipate e della gestione dei procedimenti amministrativi di concessione, di erogazione, di benefici, contributi, finanziamenti e aiuti pubblici. Provvedimenti a sostegno del tessuto produttivo agricolo, mediante l'utilizzo del piano di sviluppo rurale 14-20. Con la DGR 229 del 22-4-2020 abbiamo approvato il piano di misure economiche da 32,5 milioni di euro per sostenere le imprese. L'intervento si articola in cinque misure. Fondo prestiti a favore di micro e piccole imprese, risorse 18,5 milioni di euro. Garanzia di integrazione delle misure di quell'articolo 13 del decreto liquidità, 6 milioni di euro. Rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese, 4 milioni di euro. Intervento Bridge to Digital, risorse 3 milioni di euro. Fondo di garanzia e anticipazione della cassa integrazione, 1 milione di euro. Per quanto riguarda il settore turistico, che oggi appare ed è quello con più immediato impatto e con pesantissime ricadute a livello globale, l'Aggiunta ha adottato e ha definito quattro linee strategiche di intervento per il rilancio del turismo al fine di rafforzare la competitività della destinazione della nostra regione. Rafforzamento dell'offerta in termini di attrattori e servizi, adeguamento della recettività e dei servizi alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria, sostegno alla promo commercializzazione delle imprese private, azioni di promozione e comunicazione turistica. Dal lato della riprogrammazione, l'Aggiunta regionale ha adottato un primo provvedimento urgente a sostegno del tessuto produttivo, prevedendo uno stanziamento complessivo di 31 milioni di euro, di cui 10 derivanti dalla rimodulazione del PSR e 21 da quella del PORFESR 2014-2020, in data 26-2-2020. Le rimodulazioni hanno principalmente spostato risorse ed azioni in ritardo o che presentavano difficoltà di attuazione, su altre azioni che presentavano maggiori necessità. Con un'attenzione particolare alle esigenze legate all'attività del turismo, della cultura, subito dopo l'approvazione è iniziata a manifestarsi in tutta la sua ampiezza all'emergenza economica e sanitaria e abbiamo quindi venerdì 8 maggio messo in campo un'altra strategia a 360 gradi per famiglie, imprese e cittadini. Per quanto riguarda il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, si tratta di una riprogrammazione di 32,5 milioni di euro, che si aggiungono al primo intervento per un totale di 500 milioni, privilegiando settori e tipologie di intervento strategici per fronteggiare gli effetti dell'emergenza in atto. Tra le principali modifiche ci sono l'acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione e progetti di ricerca pubblica in ambito sanitario e stanziamenti importanti per la competitività delle imprese e start-up e per il sostegno finanziario delle attività colpite dalla crisi e il rilancio del turismo. La riprogrammazione del Fondo Sociale Europeo rappresenta un'operazione di circa 53 milioni di euro, con interventi rilevanti su occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione. Finanzieremo progetti per il riempiego, per il sostegno ai lavoratori autonomi senza tutele, digitalizzazione dell'offerta scolar, borse di studio, servizi socioeducativi, servizi per l'infanzia e diritto allo studio. Complessivamente abbiamo quindi messo in campo una riprogrammazione di circa 108 milioni di euro. Queste risorse sono libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti, che si aggiungono alle risorse già rese disponibili in sede di approvazione di bilancio. Consigliere Bianconi, la ringrazio molto e stiamo agendo con tempestività ed urgenza, come già sollecitato da lei. Purtroppo devo rilevare e costatare che per quanto riguarda l'iter della riprogrammazione dei fondi strutturali non si è provveduto a mettere in campo percorsi straordinari o abbreviati che ci avrebbero consentito una velocizzazione e quanto mai utile in questo particolare momento. Grazie. Sì, ringrazio l'assessore Agabiti per avermi fornito la cifra che per me era quella che cercavo da tempo, che sono 108 milioni per la riprogrammazione, frutto dei fondi strutturali. Noi abbiamo chiesto come minoranza in più situazioni l'istituzione di un tavolo vero, operativo, di confronto nel quale collaborare e dare il nostro contributo. Mi auguro che questo possa avvenire e mi auguro di avere, magari farò un'altra interrogazione scritta, uno schema puntuale di questo. Grazie. Oggetto numero 13 per l'assessore Morroni, strutturale carenze impiantistiche regionali nella fase di gestione del ciclo dei rifiuti, tipo atto interrogazione, do la parola al Consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione che parte prendendo spunto da quello che è stato l'evento di un incendio che si è verificato all'interno di un impianto di proprietà ASM, semplicemente all'interno di un rullo, un nastro trasportatore, a causa di condizioni da quello trapelato dalla stampa, è avvenuto questo incendio che ha creato un danno di circa 100 mila euro all'interno di uno degli impianti più importanti per quanto riguarda l'ex AT4. Abbiamo suggerito un ragionamento poi su quella che è la situazione della programmazione e della pianificazione impiantistica all'interno della nostra regione in merito al trattamento post differenziata e al massimo recupero di materia e quindi alla dotazione impiantistica. Un'analisi che poi all'interno delle premesse si è spostata sul documento tecnico preliminare per il piano d'ambito che è stato redatto e presentato a maggio 2018 dalla regione in cui si faceva chiaramente riferimento, leggo questo passaggio, nel rispetto delle indicazioni pianificatorie il gestore ASM Terni sta sviluppando ipotesi progettuali per il revamping dell'esistente impianto. Finalità del progetto è la valorizzazione del rifiuto indifferenziato residuo con obiettivo di recupero di materia e produzione di CSS. Stanti difficoltà realizzative nell'attuale sito a posizione di vincolo di identificabilità posto dal Comune di Terni per tematiche legate a bonifica area, in sede di incontro è stata anticipata una possibile ricollocazione in contesto vicinale. All'impianto di trattamento del RUR si affiancherebbero linee di valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata, quindi plastiche e cellulosici. Sostanzialmente il progetto presentato da ASM, poi anche tramite la stampa, è assimilabile a una cosiddetta fabbrica dei materiali, quindi a un impianto finalizzato alla creazione di materie prime e seconde, da cui poi possono anche, questo può costituire un volano per lo sviluppo industriale all'interno di un territorio. Vado direttamente all'interrogazione, scusate, quindi chiedendo nell'ottica di una nuova e più efficace gestione dei rifiuti volta a risolvere le criticità strutturali di carenza impiantistica, se Auri stia valutando eventualmente quale sia lo stato di avanzamento del progetto di revamping o rilocalizzazione del nuovo impianto di selezione di Maratta, di proprietà di ASM, citato nel documento preliminare del piano d'ambito. Quali siano al momento i progetti in vaglio presso l'Auri che riguardano la costruzione di nuovi impianti, ovvero l'adeguamento o revamping di impianti già esistenti relativamente al pretrattamento, trattamento o recupero, la valorizzazione di ogni tipologia di rifiuti che sono in corso di valutazione, quando vedrà la luce un nuovo e definitivo piano d'ambito. Perché, e concludo, Presidente, ci troviamo di fronte a un'emergenza rifiuti che ormai viene annunciata da anni per un evidente oggettivo esaurimento di capacità delle discariche Umbre, che ad oggi, da quello che sappiamo, non hanno avuto autorizzazione per gli ampliamenti, su cui è necessario e su cui da anni c'è una carenza in termini progettuali e pianificatori. Quindi è arrivato il momento, oggettivamente, in cui iniziare ad agire e a sviluppare soluzioni concrete per risolvere questo problema. Grazie, Consigliere De Luca. La parola all'Assessore Morroni. Sì, grazie, Presidente. Consigliere De Luca, cercherò di seguire le tre questioni che lei ha posto e di dare per ciascuna di esse una risposta puntuale. Iniziando proprio dal nuovo polo impiantistico di gestione di rifiuti urbani speciali presso l'area ex officine Bosco. Si tratta di un intervento, come lei ben sa, proposto da ASM-SPA, con riferimento al miglioramento dell'efficienza impiantistica, a supporto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di una porzione territoriale del subambito numero 4. Il Consiglio direttivo di Aure ha preso atto della proposta presentata da ASM, proponendo il suo eventuale inserimento nella futura programmazione di ambito. A riguardo, però, è bene precisare che, avverso la delibera che ha esaminato il suddetto progetto, è stato proposto ricorso al Taro Umbria da parte di ASEA, Ambiente SRL, che sostanzialmente ha contestato la legittimità di ASM ad essere individuata quale soggetto attuatore del progetto, in quanto nel suo ambito 4 non vi è stata alcuna gara di affidamento di gestione degli impianti. Pertanto, ASM in tale contesto opera come un soggetto privato. In relazione a tale circostanza sostiene ASEA Ambiente, nel ricorso, un eventuale impianto di tale portata dovrebbe essere oggetto di specifica procedura di gara. Tale profilo di censura era ben conosciuto da Auri, che infatti nella delibera di qui sopra subordinava la prosecuzione dell'iter di progettazione dell'impianto alla verifica di assenza di clausole contrattuali regolanti il sistema di gestione impiantistico del subambito numero 4, che ne impedissero la sua fattibilità. La proposizione del ricorso è effettivamente fatta emergere la suddetta criticità. Con riguardo ad altri interventi concernenti impianti presenti nel territorio regionale all'attenzione di Auri, vorrei richiamare alla sua attenzione intanto il revamping dell'impianto di Ponterio, di Perugia. Si tratta di un intervento di adeguamento alle BAT e l'adeguamento alle BAT ha comportato anche una ridefinizione del layout dell'impianto per renderlo più funzionale alle rinnovate esigenze del sistema. Inoltre mi preme portare alla sua attenzione il miglioramento funzionale dell'impianto di selezione e valorizzazione di casone di Foligno. Si tratta anche in questo caso di un progetto di adeguamento alle BAT e anche in questo caso il progetto di adeguamento alle BAT si associa ad alcune migliorie dell'impianto volte ad ottimizzare l'utilizzo. Il progetto era già stato approvato in una prima fase dall'ex AT3, tuttavia a dato di Erna non è ancora stato presentato ad Auri il progetto definitivo. Da ultimo vorrei citare l'impianto di biostabilizzazione di Pietramelina, l'impianto di compostaggio di Pietramelina di Perugia che fino al 2012 ha trattato la frazione organica proveniente da raccolta differenziata e la frazione di sottovaio proveniente dall'impianto di Ponterio. Questo impianto ha cessato la sua attività, come ricorderà, nella seconda parte del 2018 in relazione alla necessità di procedere agli adeguamenti alle BAT. Tale ferma dell'impianto aveva generato anche una serie di criticità che sono state superate attraverso un soccorso impiantistico regionale e attraverso un residuale ricorso per la FOA di impianti esteregionali. Questo per quanto riguarda gli impianti. Con riguardo la politica più generale di Auri, mi preme evidenziare che il nuovo Consiglio direttivo di Auri, rinnovato a seguito della tornata elettorale del 2019, con proprio atto numero 52 del 29 ottobre 2019, ha deciso di riavviare il percorso di redazione del piano d'ambito regionale attraverso l'affidamento ad un soggetto esterno qualificato da selezionare tramite gara. Con determinazione, il numero 188 del 29 aprile 2020 si è definita la prima fase della gara e si è proceduta all'approvazione delle documentazioni di gara da inviare tramite lettera d'invito ai soggetti che si sono qualificati nella prima fase della procedura. La scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata per il giorno 20 maggio 2020. Vorrei terminare la risposta con una brevissima considerazione che però ritengo essenziale. Intanto un'analisi sull'impiantistica della nostra regione, Consigliere De Luca, il sistema impiantistico regionale con riguardo agli impianti di selezione e di trattamento meccanico-biologico è oggi ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno interno. Si ravvisa invece una carenza sul fronte del recupero della frazione secca residua, carta e plastica da indifferenziato. Ma su questo fronte occorre anche fare delle riflessioni approfondite, delle valutazioni di sostenibilità economica dei relativi impianti e anche di possibili ricadute ambientali con riguardo agli scarti a smaltimento. Da ultimo mi preme richiamare la sua attenzione a quella dell'intera Assemblea che il tema dell'impiantistica naturalmente è intimamente connesso a quella che è la vera questione che sta dinanzi a quest'Aula, che sta dinanzi al Governo della Regione, che è la chiusura del ciclo dei rifiuti in Umbria. Veniamo da anni di inerzia su questo fronte. Voi sapete che il piano regionale dei rifiuti del 2009 non è stato attuato in alcuni punti salienti, per cui quelle questioni sono aperte. Sappiamo che le discariche hanno ormai una capacità residua che non va oltre tre, massimo quattro anni. E pertanto la vera questione che questo esecutivo si impegnerà a portare l'attenzione dell'Aula entro il corrente anno sarà l'analisi di un nuovo piano regionale dei rifiuti, che dovrà dare risposte questa volta non all'insegna dell'immobilismo o dell'inerzia, ma risposte nette, definitive, che pongono la parola e fine alla gestione dei rifiuti, alla chiusura del ciclo e possano proiettare l'Umbria con riguardo a questa materia su un piano di modernità e di piena funzionalità del sistema di gestione dei rifiuti. Grazie Assessore. La replica al Consigliere De Luca. Mi ritengo soddisfatto nell'ambito della risposta, diciamo, dettagliata che c'è stata, soprattutto in merito all'impianto ASM, credo che qualsiasi soggetto sia legittimato a fare tutti i ricorsi che vuole, ma poi da parte del pubblico devono esserci delle idee e delle visioni anche di governance ben definite. Io credo che questo sia un problema facilmente risolvibile, ad esempio, aprendo la partecipazione societaria di ASM agli altri comuni della provincia e procedendo con un affidamento in house da parte dei comuni, così come fanno altri territori, prendo a riferimento il consorzio Priula della provincia di Treviso, e quindi ragionare su una soluzione di questo tipo, perché è fattibile e è possibile farla ora. Per quanto riguarda la visione generale, credo e mi auguro che ci sia l'apertura di un dibattito e di una discussione quanto più partecipata possibile per arrivare a questa soluzione, perché a mio modo di vedere questa soluzione è a portata di mano e con un minimo di buonsenso e di intelligenza da parte di tutti è possibile arrivare a una soluzione condivisa e partecipata che soddisfia anche le esigenze di salute e salubrità ambientale dei territori umbri. L'impianto di ASM sotto questo punto di vista, il progetto che è stato presentato da quello che è l'aspetto progettuale, definisce un residuo di 15.000 tonnellate, che è una cifra estremamente risibile rispetto a quella che è l'attuale produzione dei rifiuti in quel brano del nostro territorio. Quindi credo che sia possibile fare molto e soprattutto andare verso una tendenza che porti al massimo recupero di materia e la riduzione drastica dei rifiuti che vanno a finire in discarica. Grazie. Progetto numero 15, risponde l'assessore Fioroni, situazione di vertenza acqua e minerali di Italia, siti di San Gemini, Amerino. Non so se illustra il consigliere Paparelli o il consigliere Boric. Grazie Presidente. Assessore Fioroni, noi, la vedo, mi lascia battuta, la vedo in punizione, ma spero non per l'acqua, Amerino e San Gemini, via. Noi siamo stati sia al Consiglio Comunale, convocato proprio sul tema, sia al Presidio di fronte ai cancelli della fabbrica. In entrambe le occasioni ci dispiace aver dovuto registrare l'assenza della Giunta. Le acque minerali d'Italia, ad oggi proprietarie del marchio sia San Gemini che Amerino, erano in crisi ben prima dell'emergenza Covid. Anzi, paradossalmente l'emergenza Covid ha portato a tutto il settore un beneficio che loro non sono stati in grado di agganciare. Per San Gemini Amerino c'era un accordo, un accordo che noi chiediamo venga rispettato, perché è un accordo che è stato fatto con le concessioni regionali stabilite con uno dei costi più bassi in Italia, proprio per consentire il rilancio. Un accordo fatto con la Cassa Integrazione e quindi i soldi dei lavoratori che hanno creduto nel progetto di fronte a questo, di fronte al pubblico che si impegna e fa un buon accordo tra lavoratori, sindacati e impresa e rinuncia anche alle sue quote sulle concessioni. Quindi di fronte al pubblico che si impegna, di fronte ai lavoratori che rinunciano a una parte del loro stipendio per riuscire a sostenere il rilancio dell'azienda, di fronte a tutto questo sono chi è venuto meno. Quello che è mancato è il rispetto dei patti e degli accordi da parte di Acque Minerali d'Italia. Purtroppo, perché San Gemini Amerino sono due marchi storici, due marchi che possono, soprattutto nell'attuale dinamica di mercato, essere rilanciati. Ad oggi i lavoratori vogliono tornare a lavorare e questo non è possibile per le incapacità gestionali ma anche per l'assenza della regione. Noi chiediamo alla Giunta di cambiare marcia sul tema, di cambiare marcia perché è necessario. Lo dobbiamo fare per le comunità locali e lo dobbiamo fare per i lavoratori. Serve un'azione forte, serve un'azione immediata. Noi l'abbiamo già sollecitata da tempo. Ci torniamo dopo essere stati a contatto con i lavori e con le comunità, con i lavoratori e con le comunità locali. Ci torniamo perché purtroppo è necessario. Noi vogliamo sapere quali sono le azioni che avete intrapreso e che intendete intraprendere per tutelare come d'accordo i livelli occupazionali e nel momento in cui venga meno l'impegno della proprietà, come ci sembra che stia accadendo, quali sono le azioni che vuole fare la Giunta regionale. In particolare ci preoccupa la sostanziale chiusura degli stabilimenti e il permanere in cassa integrazione o sospensione dal lavoro di tutti i lavoratori. Contestualmente sembra mancare, come denunciato da loro, i materiali, gli acquisti per poter ripartire. Si configura una situazione che noi non vogliamo che si trasformi in una chiusura ad orologeria. Grazie. Ricostruendo un po' la vicenda storica, nel novembre del 2018 e il 16 novembre sul tavolo della Regione è stato firmato quell'accordo a cui faceva riferimento. Lei diceva che la politica aveva fatto un buon accordo e quell'accordo è andato in attuazione dal 16 novembre. La politica forse avrebbe dovuto anche vigilare quell'accordo in tutto il 2019. Detto questo vorrei ricordare al consigliere Bori che il 3 marzo del 2020 l'Acqua e Minerali d'Italia hanno depositato al Tribunale di Milano la domanda di ammissione al concordato in bianco. Che cosa vuol dire? È un concordato preventivo con continuità aziendale, uno strumento giuridico che serve per salvaguardare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, laddove è finalizzato a superare crisi di aziende anche con motivazioni gravi che però siano temporanee e reversibili. Da un punto di vista giuridico la Regione non può fare niente in questa fase. C'è un concordato in bianco. Il sistema delle relazioni industriali non l'inventa la Regione. Siamo in presenza di un tavolo di crisi sollecitato anche dalla Regione Umbria che è stato convocato al Mise. È un tavolo di crisi che è stato attivato perché l'azienda è plurilocalizzata. Il gruppo Acqua e Minerali italiani ha un nebbitamento estremamente elevato rispetto al fatturato generato. In questo momento noi dobbiamo attendere anche perché l'azienda teoricamente essendo in corso un concordato preventivo non potrebbe nemmeno effettuare tutte quelle attività di investimenti richiesti dal piano oggetto. Per quanto riguarda il mercato delle acque consigliere Vuori non è che abbiamo vissuto una stagione dove il mercato delle acque all'improvviso si sono trasformati in oro. C'è stato un incremento attorno all'11% nel periodo della crisi ma sul progressivo anno più basso che ha portato a generare un effetto di stoccaggio da parte dei consumatori. Fermo restando che parte del fatturato del gruppo, circa il 30% che era veicolato sui canali Orecà, quindi hotel, ristoranti e catering, è stato totalmente venuto a meno. Quindi a fronte di un incremento dell'11% del fatturato generale del gruppo il 30% del fatturato ha subito un decremento del 90%. Quindi le condizioni di mercato non erano così rosee perché normalmente il mercato si giudica con i dati tenendo conto che già nell'ultima settimana di aprile, ho analizzato dati Nilsen che mi sono fatto mandare proprio per nell'ultimo mese di aprile, già si assiste a un decremento anno corrente su anno precedente sintomatico indicatore che c'è stato solo un effetto di stoccaggio, ovvero si sono anticipati consumi, acquisti nel caso specifico, per proteggersi. Detto questo sul tema della cassa integrazione noi stiamo attivando nei confronti della vicenda un monitoraggio attento che non vuol dire andare nei cancelli, siamo delle istituzioni, stiamo monitorando quello che succede sul tavolo, è stata convocata una riunione, l'8 maggio c'è stato un incontro fra i segretari nazionali perché essendo un'avvertenza nazionale, perché ribadisco l'azienda è plurilocalizzata, l'avvertenza si sposta sui tavoli del mese e ci sono le sigle nazionali che hanno non solo durante l'incontro è stato ribadito la volontà lecita da parte dei sindacati di avere aggiornamenti circa la proposta che concordataria che l'azienda doveva presentare ma è stato anche definito un accordo con i lavoratori che prevede che nei tre mesi nei tre mesi del aprile, marzo, aprile e maggio la cassa integrazione per i lavoratori non supera nella totalità dei tre mesi i 20 giorni, quindi sono stati in cassa integrazione 8 giorni a marzo e 6 giorni a aprile. L'attenzione della regione sarà sempre altissima, saremo presenti ai tavoli istituzionali, che sono i tavoli dove la regione deve essere presente, dove deve esercitare la sua azione di controllo. Fermo restando che non possiamo ignorare che siamo di fronte a un concordato in continuità che ci porta a dover necessariamente attendere la proposta che rispetta tutti gli investimenti che il gruppo ha in Italia sarà fatta da parte del gruppo Acque e Minerali nella data che è fissata entro il 18 giugno, se non sbaglio, potrebbe essere posticipata al prossimo settembre. In tutto questo abbiamo anche sempre mantenuto alto le interlocuzioni con le istituzioni del territorio per un continuo e reciproco aggiornamento sulla vicenda. Grazie, Assessore. La parola per la replica al portavoce dell'opposizione, Consigliere Paparelli. Sì, grazie. Presidente, ma la risposta dell'Assessore Fioroni, che anche questa volta butta la palla in tribuna, come si dice in gergo, non è assolutamente soddisfacente. In primo luogo perché il settore agroalimentare è stato l'unico che è cresciuto in questi mesi, lo dicono anche i dati Istat di oggi, adesso si è cresciuto un po' più, un po' meno. Questo non giustifica la cassa integrazione in un'azienda che noi abbiamo sempre dichiarato fosse piuttosto un alibi la cassa integrazione, piuttosto che un provvedimento per corrispondere a un'emergenza temporanea e quindi far fronte poi successivamente agli impegni assunti. Per quello che riguarda gli impegni, gli impegni vengono sottoscritti tra le parti sociali e l'azienda. Quindi in primo luogo, se non c'è un'emergenza che viene dichiarata dalle organizzazioni sindacali dell'RSU non è la Regione che deve vigilare sull'accordo del 2018, la Regione deve vigilare sul rispetto dell'accordo del 2015, Assessore, perché nel 2015 quell'accordo che è stato ribadito nel 2018 prevede la piena occupazione che non sia licenziato nessuno e prevede dei canoni, diciamo così, molto bassi proprio perché quei canoni di erogazione erano legati al mantenimento, al dare un contributo al mantenimento all'occupazione della sua interezza. Quindi ne vale la giustificazione che questa non è un'avvertenza solo nazionale, l'avvertenza nazionale riguarda il gruppo. La Regione non può essere spettatrice che va solo al tavolo nazionale del Ministero a sentire quello che si dice sul gruppo. La Regione è titolare della concessione delle acque minerali e su questo tema io non abbiamo ancora sentito una parola netta e decisiva tesa a garantire quegli accordi e il rispetto di quegli accordi, perché se non ci sono queste condizioni si parla con i tribunali, si parla con chi gestisce i provvedimenti eccetera e si cercano soluzioni diverse se non si è in grado di mantenere quegli impegni e quegli accordi e noi la invidiamo a fare questo.